Il reparto territoriale Carabinieri di Gela ha organizzato un servizio straordinario di controllo nel territorio del comune di Riesi per incentivare il contrasto all'illegalità. Durante l'esecuzione del servizio sono state controllate complessivamente 276 persone e 190 veicoli, elevate contravvenzioni al codice della strada per un importo complessivo di 13.000 euro. In particolare sono stati segnalati alla prefettura di Caltanissetta 5 soggetti trovati in possesso di piccola quantità di sostanze stupefacenti tipo cocaina e hashish.